Quattro! 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 Il commendatore e la segretaria nuova Che originale Ok, lui No, lei, guarda che occhiali Ah, si dà importanza Un po' snotma Che praticità! E questi dove vanno? Chiaro, no? A caccia alla volce Che velocità! Che carini Viva la gente semplice! Che economia! Che eleganza! Sì, ma che cosa manca? Io? La Vespa! Tutti mi guardano Mi vogliono per loro Si voltano a fischiare Pieni d'ammirazione Ma quanto è bella Non fanno che slamare Li sento sussurrare Ma tu lo sai Chi è? Sono io! La Vespa! Lo scooter più venduto nel mondo!